Quindi il problema non sono le navi delle ONG, il problema è il flusso dei migranti ed è questa la passione. Però posso dire una cosa, nella denuncia c'è anche qualcos'altro, perché quando vanno le navi delle ONG, queste poi non fermano gli scafisti se li trovano, non fanno tutte queste denunce. E' questo che sta denunciando, se le ONG sono davanti alle navi di fronte, che già arrivano a 20 miglia, a 20 miglia arrivano e addirittura, le ONG a 10 miglia, per chi non lo sapesse, un miglio è un chilometro e sei, per far capire quanto arrivano vicino alle coste libiche. Ma neanche la guardia costiera, questo è il vero problema, le ONG chi è che le finanzia? Perché questa è la domanda che si fa a quel ragazzo nel video, come ci facciamo tutti noi? Perché bisogna essere informati per parlare, le ONG vengono finanziate dai sostenitori per politica internazionale. No, tu devi ascoltare, scusami, devi ascoltare, ma quale grande finanza hanno a aiutare a prendere le persone sulle coste libiche? Sono le coste libiche, qual è il loro intento? Stai dicendo delle sciocchezze colossali? Stai dicendo delle sciocchezze colossali? Stai dicendo delle sciocchezze colossali? Ma dai, poi possono stati simpatici, forse preferisci le canzoniere e un altro maio di maniche. Uno per volta, scusa, una domanda, qualcosa che fa? Perché gestiscono anche sul territorio, le seconde generazioni, in un modo particolare, per fare confusione. Vi trovo molto generosi, ma molto poco con la Borgonzoni. Zitti, zitti, è una da sola contro due, è per ferma, ferma, ferma. Ci sarei anch'io se potessi... Ci sarei anch'io se potessi...